Oggi nessuno vi chiede di vincere, di ribaltare il campionato, di rimontare 6, 9, 10, 12 punti. Oggi vi chiediamo di fare un passo nella vostra crescita, di salire uno scalino nella vostra scala dell'agonismo sportivo e del vostro modo di giocare. Perché solamente così potrete pensare di vincere. Ben trovati da Giovanni Vimpinelli, oggi è il giorno del big match di palla a mano, seconda divisione gironere tra Flavioni e Teramo, prima giornata di ritorno di questo campionato. Bartoli contro Dovesi, Enrica, Bartoli, 1-0 di Crese, ma la deviazione della difesa, Anna Giulia Francesconi. 2-0, la Flavioni ha raddoppiato, poi Crese, Mazzieri, Crese, ancora Mazzieri, Serra Elena Crese, il gol. Primo gol del Teramo con Elena Crese, crosta, crosta per Bartoli, Bartoli da sinistra verso destra, Enrica. Bartoli, 3-1, ancora Crese che rimane il pallone, attenzione al buco, è il gol di Crese, con il palmo della mano. L'alzio lunghissimo per Bartoli, Bartoli va a porta, Bartoli va a porta, Enrica, Bartoli, 4-2, la tripletta di Bartoli, primo giallo per lei in questo match. Buona mano, buona mano, Chiara, buona mano, 5-2, Bartoli contro Dovesi, Enrica, Bartoli, 6-2, istante, attenzione a Kerti che va in gol. Angela Kerti ha segnato, poi a fini, Crese che va in porta, e c'è il gol, attenzione a Miladinovic, è il gol di Natascha Miladinovic, per il 6-5, Miladinovic contro De Santis. Il gol di Natascha Miladinovic, è arrivato il pareggio, Bartoli, dall'altra parte per Caciari, Daniela! Caciari, 7-6, la Flaioni torna in vantaggio, Miladinovic, Crese, la tira, è il gol, classica azione mancina di Elena Crese, Crese contro Pulake. Gol Elena Crese ha segnato, De Leocidi. No! Ha sbagliato Bartoli, non ci credo. Pallone fuori, si riprende a giocare Miladinovic, gol! Ha segnato Natascha Miladinovic, Anna Giude Francesconi, Bartoli, Bartoli, Enrica, Bartoli, meno uno, Manuziella. Per Bartoli, Enrica, Bartoli, 9-9, il pareggio della Flaioni. Attenzione, gol, non c'è il gol, c'è il gol. Ha segnato dal centro, Bartoli, Crese, Crese pinta alla destra, poi va a sinistra, il gol. Troppa di libertà, Crosta, Crosta, se ne va via, Martina, Crosta, meno uno. Ovviamente non subito al riposo perché attaccherà la Flavioni, il gol di Chiara Lappis. Anna Giulia Francesconi contro Dovesi. Anna Giulia Francesconi, meno uno. Si prende a pallone Miladinovic, lei che ha detto che giocherà col Teramo solamente a mezzo servizio. Attenzione, gol! Ha segnato al Teramo con Chiara Lappis per il 13-11. Crese, Crese, attenzione a Crese, troppo lì, però fa gol, non è possibile. Tre gol di vantaggio per il Tenamo, ancora in gol Crese, Mazzieri. La tocca Maruzella ma non la prende, Miladinovic! E il pallone che resta in campo, non vale. Anzi, pallone che è entrato, c'è il gol di Miladinovic. 11-15 situazione. Miladinovic, ecco che vi è in porta. Silvia Lampis, gol. Silvia Lampis, Miladinovic contro De Santis. Sbraccia più che può, è il gol, peccato! Peccato De Santis l'era toccata, comunque c'è ne che si poteva prendere. Il gol di Miladinovic. C'è Alessia Delirosi, l'importa. Enrica Bartoli, meno 5. Gira l'altra parte dove c'è Crese, poi è il gol. Ha segnato l'altra Lampis, Chiara Lampis, Enrica Bancoli. In mezzo al passaggio in realtà è per il pivot, ma è finito il pivot. Attacca Fini, va a servire Silvia Lampis, è il gol. Ha segnato ancora Silvia Lampis. Sette gol di vantaggio per il Tenamo. Si gioca, pallone per Crosta. Crosta se ne va, Crosta se ne va. Tutta se ne posta, questo lo devi fare, questo lo devi fare. Martina, Crosta. Meno 6. Lei che ha giocato anche con il Bancole. Gol. Purtroppo ha segnato adesso Elena Crese. Al Bartoli! Ci è arrivato ancora Dovesi. Crosta, Crosta, Martina, Crosta. Il meno 6. Vogliosa di andare in gol. Bisogna dimontarla adesso, bisogna dimontarla adesso. Bartoli, Bartoli. Per Bonamano! Chiara! Bonamano! Meno 5. Crosta. E poi Enrica, Bartoli. 16-21. Ancora 5 gol di Vascarto. Ha segnato Anil Alazzo. Siamo 22-16. Mancano 11 minuti. Miladino, l'Icercol. La tocca Maruzella. Ma il pallone di Fini. E poi c'è il gol. Bonangela Kirchi. Bartoli contro Dovesi. Dovesi. Enrica Bartoli. Per il 17-24. Si va via il pallone, ma lo riprende Crese. Mazzieri. In mezzo da Fini. Fini. Gol. E se ne è presa bene Federica Fini, perché è andato subito a segno. Anna Giulia Francesconi. Anna Giulia. Francesconi. 18-25. Kirchi. Ancora Grese. Kirchi. E in mezzo. È il gol di Anita Alazzo. 26-18. Slavioni che resta a tre punti classifica. È il gol di Silvia Lampis. 27-18. Anna Giulia Francesconi. Ha spazio per andare in porta. Anna Giulia. Francesconi. Bel gol di Anna Giulia. Miladino invece che è rientrata. Ancora voglia di segnare. E fa un gran gol. Michela Francesconi. Anna Giulia Francesconi. Vediamo che è andato. Bartoli. Bartoli. Per Caciari. Daniela Caciari. 20-28. E al palarra a manico è finita. Il Teramo si è imposto sulla Flaioni per 28-20.